22 assoluzioni rispetto alle 25 nella processo di primo grado, 8 condanne invece di 5. Il giudizio in corte d'appello all'Aquila per la tragedia di Rigopiano in apparenza non cambia di molto la sostanza rispetto al giudizio di primo grado, ma lancia segnali importanti in quel tortuoso sentiero verso la giustizia nel perpetuo conflitto tra verità storica e verità processuale. Nessuno ragionevolmente poteva mai sperare in un totale ribaltone con condanne per tutti e 30 gli imputati, ma obiettivamente anche la quasi totalità degli imputati assolti in primo grado appariva un'esagerazione in senso inverso. L'interpretazione data dal Collegio dei giudici in corte d'appello all'Aquila preseduto da Aldo Manfredi ha fornito ulteriori elementi coinvolgendo di fatto i vertici di tutte le principali istituzioni, quelle amministrative, provincia di Pescara e comune di Farindola e quelle burocratiche, la prefettura tenendo fuori solo la regione, peraltro indicata solo per la mancata attivazione della carta localizzazione pericolo Valanghe. La novità più sostanziale è quella legata alla condanna dell'ex prefetto Francesco Provolo ad un anno e otto mesi, ma non sul disastro o sul presunto depistaggio, quanto per due capi di imputazione specifici riguardo all'omissione e alla falsità ideologica in atto pubblico per aver comunicato, in una nota del 17 gennaio del 2017, un giorno prima alla tragedia, l'apertura del centro di coordinamento soccorsi che di fatto non avvenne. Per la stessa ragione è condannato l'ex capo di gabinetto della prefettura Leonardo Bianco per una nota simile però inviata il 16 gennaio. Entrambi erano stati assolti in primo grado. Per quanto riguarda le responsabilità in capo ai vertici della provincia di Pescara, confermate le condanne a tre anni e quattro mesi per i dirigenti Paolo Dincecco e Mauro Di Blasio, che avrebbero dovuto garantire la viabilità delle strade operando fattivamente per liberarle dalla neve copiosa di quei giorni. Altra novità, la condanna a due anni e otto mesi, stessa appena confermata per il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, per il tecnico comunale Enrico Colangeli, per omicidio colposo e lesioni plurime, in relazione al mancato intervento per consentire ad ospiti e dipendenti dell'hotel di lasciare la struttura. Dalla semplice lettura del dispositivo, quindi posso anche sbagliarmi, anche in questa sentenza della Corte d'Appello ci si ferma al momento della valanga. Infatti anche le responsabilità sia del prefetto che del capo di gabinetto dell'epoca si fermano proprio alle date antecedenti, quindi anche 16 e 17, quindi ai reati di falso, commessi o comunque ai reati commessi prima del 18, come se anche per i giudici della Corte d'Appello la data del 18 fosse uno spartiacque, quindi tutto quello che è accaduto per il rischio isolamento neve. Escono dunque di scena questioni ritenute importanti come la carta di localizzazione pericolo valanghe e il depistaggio, per questo confermata l'assoluzione dei dirigenti regionali e prefettizi, mentre per quel che riguarda l'ex presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, ha accolto il ricorso dei suoi legali per la modifica della regione e della soluzione da il fatto non sussiste a per non aver commesso il fatto. I parenti delle vittime, alla luce di questa sentenza, parlano di contentino e che si poteva fare di più, ma nella loro straordinaria compostezza colgono con moderata soddisfazione quanto stabilito dai giudici in Corte d'Appello. Un bagliore di luce che ci può portare ad avere quella verità che abbiamo sempre cercato. C'è un punto in più da dove poter ripartire e capire che quei giorni drammatici qualcosa non ha funzionato. Oggi un tribunale italiano, una corte di appello di un tribunale italiano, lo ha acclarato.